C'è solo tanta rabbia per questi femminicidi che succedono, solo questo, perché pure se denuncio non risolve niente, anzi peggiori la situazione, perciò non è che può dire. Sono arrivato due o tre minuti dopo, tre o quattro minuti, ho visto molta gente vicino all'ingresso del Civico 4, sono andato a vedere, dice no, quelli hanno apportato, le hanno apportato un'azighiota. La signora, mentre stavamo, poi hanno cominciato a dire no, quello è un giovane vestito in nero, con un capello da pescatore, con motorino e scappato, bianco, con un SH, e finita là. Poi abbiamo saputo che questa era la signora di Viga Quenza. Qua c'era qualche furto, la bicicletta, ma queste cose qua non succedono, è una cosa strana. Fabio, 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 vieni un attimo qua con la mia cena.